Ben trovati a una tendenza per il prossimo weekend 20-21 ottobre, quando l'alta pressione probabilmente inizia a essere indebolita, disturbata ad ovest da impulsi atlantici. Una settimana che sarà contraddistinta dall'alta pressione di matrice subtropicale con temperature molto miti sull'Italia, valori anche fino a 25-27 gradi. Poi durante il prossimo weekend non escludiamo appunto un indebolimento di quest'anticiclone con effetti tutti da vedere nei prossimi aggiornamenti. Ovviamente scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo oppure visitate gli articoli sul nostro sito web.